E what's up a tutti ciurma e benvenuti da giochere in questo nuovissimo episodio su Life is Strange True Colors Vi ricordo ragazzi che è importantissimo il vostro sostegno con i like affinché questa serie possa proseguire Per cui se volete vedere il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like So che ci possiamo riuscire, grazie come sempre a tutti per il supporto Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa siamo riusciti a sottrarre una pennetta USB a Diane La tipa che lavora per la Typhoon che sembra stia nascondendo qualcosa Sicuramente sa tante cose che noi non sappiamo riguardo l'incidente provocato dalla Typhoon che purtroppo ha coinvolto Gabe Ovviamente la chiavetta aveva una password per cui in questo momento stanno cercando di decodificarla E quindi eccoci qua, ho avuto un problemino con la registrazione ragazzi per questo che vedete Alex già col cappello Perché era quello che dovevamo trovare effettivamente, dovevamo trovare il cappello L'abbiamo trovato qui all'interno di questo baule dove abbiamo anche trovato una chiave Che se non sbaglio dovrebbe aprire questo cassetto Io manco avevo notato effettivamente sto cassetto avesse una serratura Per cui vediamo un attimino cosa c'è qua dentro Ok c'è un taccuino Ok lista delle cazzate che ho fatto e che devo sistemare Trova Alex, era in cima alla lista Trova il proprietario della Chevrolet rubata, what the fuck Rimborsa Jed per l'affitto, restituisci il Walkman Fai una donazione al riformatorio Lawrence Scusati con Vic compra un bong nuovo a Kevin Insomma ce ne ha Perché cazzate compra un bong nuovo a Kevin? Perché dovrebbe essere una cazzata? Scusati per davvero con Cade Insomma c'era un elenco di cose che si era prefissato di fare Chiaramente non è riuscito a farle tutte Paga il signor Wolbeck per la Chevrolet Quindi a quanto pare aveva rubato un'auto È riuscito a rintracciare il proprietario dell'auto E anche a rimborsarlo tra l'altro Quindi questo vi fa capire quanto Gabe fosse onesto Chiaramente sì, chiaramente sì Per cui quello che stiamo cercando adesso ragazzi È la piuma da mettere sopra il cappello Ma dove sarà mai sta piuma? C'è un biglietto qui per terra Appresso la tua offerta inizia a pagare l'affitto Prima però prenderti qualche mese per riempire il tuo salvadanaio Poi ne riparliamo Gentilissimo Jed ragazzi Per la sua ospitalità chiaramente Direi che queste piante sono abbastanza secche Sì infatti Spunta Ci abbiamo pure abilità da giardiniere Non ne avevo idea Direi di dargli una pulita Oddio ci sarebbe un mucchio Ma proprio un grosso mucchio di lavoro da fare Questo è poco ma sicuro Altro che è questione dei pochi secondi Spuntiamo le piante pure qua Comunque io sono salita ragazzi Perché pensavo di dover trovare qui la piuma Visto che al piano di sotto Non lo trova da manco sparandomi Non ci è data la possibilità di annaffiare Bella roba Torniamo di sotto Io direi di cambiarci i vestiti Visto che ci siamo Ma ma sì dai I pantaloni sono in tinta con Con il cappello Uno scogliattolo che regge una bottiglia Evidentemente di alcol Un bellissimo pensiero Daki Ah la piuma era qui Cioè porca di quella miseria Vedete ragazzi quanto è importante il colpo d'occhio Ok A posto Abbiamo anche il secondo elemento Che ci caratterizza Per cui Prendiamo la chitarra E direi che è arrivato Finalmente il momento Come Ethan non è convinto Dai A parlargli arrivo subito Ok a quanto pare Ethan non è più convinto Di voler fare il GRV Dopo tutto il macello Che quella poveraccia Le Steph ha fatto Pure per organizzarlo Ma corcazzo Ci andiamo a parlare a noi Paesaggio E mozzafiato Lo ripeterò ogni volta Che lo guarderò Ehi Bambino Davvero Davvero vuoi mandare tutto all'aria Dopo la gente Dopo tutto Dopo che la gente Si è sbattuta Così tanto Davvero Certo Certo Ma È triste È triste E anche parecchio Direi Tu non devi sentirti costretto A comportarti Come non ti va Cioè per carità È È Ovvio che non puoi E' normale ed è giusto così Allora non farlo Non succederà niente Il bardo è qui apposta Faremo da supporto a Ethan In questa In questa avventura There's a bunch of stuff Certo Io direi kraken E' più epico Santi nuvi Eh corretto E' giusto Si, si, si Sono io E' giusto E' giusto Chiarissimo Ok Quindi dobbiamo Trovare tre gemme Ok Tre gemme per aiutare Jedda, Aglias, Ray Qualcosa Benissimo andiamo La nostra avventura Inizia E iniziano a calare i frame Che meraviglia Ah c'è pure la scheda del personaggio Oh top Ci abbiamo due tipi di attacco ragazzi Accordo scordato Ah no solo uno pensavo fosse un altro Abbiamo un attacco per adesso ragazzi L'accordo scordato E due magie Perfetto Poi c'è Teynor chiaramente E c'è anche la mappa C'è top Ci hanno dato pure la mappa ragazzi C'è meglio è così Se crepa eh Esatto C'è poi le cose come Come arrivano Arrivano eh Ok Adesso arriva L'epicità ragazzi Cioè guardate come hanno organizzato sta roba È una cosa Fantastica Ok allora Tocca Itan Usiamo un attacco normale Lama ardente Ok Sono indicati anche i nostri punti vita Chiaramente Io direi Di usare l'attacco Per adesso Perché non ci serve Magia curativa Ok adesso ci attaccherà lui Chiaramente Ha attaccato me Aio 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 Vai Teynor Vai giù di pugnalata Due punti Lui intanto ha detto che sta ancora bruciando Adesso toccherà ad Alex Ah no Ok 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 Già è andato ragazzi Ce ne siamo già liberati Il lupo crudele è morto È bellissima sta cosa ragazzi Ottimo Ok Appena imparato una nobilità Chiaramente Esplosione di fuoco Tre punti ai nemici Insomma tre punti di danno ai nemici Però un punto di danno a noi Chiaramente Lo si può utilizzare una sola volta Per Per scontro Praticamente Quindi abbiamo raccolto una moneta E una chiave Mi sembra d'aver visto Ok Oh c'è scritto Riley ragazzi Non trovi il negozio se hai bisogno Perfetto Ok Quindi la chiave sicuramente Aprirà qualcosa Perché è spaventato? Ma perché? Se sei tenerissimo Esatto Ma non è idiota Cioè per me che non è assolutamente idiota Porca miseria Dai è tenerissimo Che si insomma presta a questa cosa qua Ok allora Lag a parte Il Black Lantern fa parte appunto del GRV Per cui C'è del sangue C'è un Ok di Diane ragazzi eh E vada uno psicologo Ok vado a uno psicologo a quanto pare Entriamo entriamo Magari la chiave che abbiamo trovato serve qui What the fuck Qualcuno qui è passato Oddio Oh Oddio bellissimo Ma quanto può essere cipi pure lui E tu chi sei? Ok Ok Quel calice è bellissimo La chiave serve qua Attimo Ok Allora vediamo di scoprire Dove serve questa chiave Qua è successo un bel casino eh No No Ah Ah ok Non c'è niente rientro Per cui Ok Quindi niente da fare no? No Se avesse trovato qualcosa Vecchio foglio What? Biscottari Ok Quindi era insomma un ricordo felice Questa è la cosa bella Allora Quindi la leggenda Gemma dell'anima Ovviamente non la leggerò tutta Se no ci metto una vita In ogni caso appunto Le gemme che dobbiamo trovare Sono tre Enciclopedia dei mostri Addirittura Ha pensato a tutto Sì Questa cos'è? Che l'era dei mostri Giungerà presto alla sua fine Sotto appunti Certo che il leggendario Ammazza mostri Tenor Ha risposto alla chiamata D'aiuto di sua Ma il sted è morto Ok Quindi mi ha consigliato Di non vendere L'attività C'è uno spartito Qui per terra Forse serve a noi Visto che siamo Musicisti What the fuck Nuova abilità Fuga ipnotica Ottimo Vabbè comunque Di regola abbiamo Appreso una no Abilità Allora Quindi il baule Non serve Sto carion Ok E qua che serve Che bello che è Col drago sopra Spettacolare Coraggio ragazzo Coraggio ragazzo Abbiamo trovato La prima gemma Ottimo Ottimo lavoro Noi si che abbiamo Fiuto per Per le cose De valore Esatto Com'è lui? E' felice Che bello Per questo che era felice Dai No è stata una trovata Geniale C'ha ragione Ok allora Andiamo fuori Ciao vecchio gnomo E grazie Per il tuo non aiuto Perché in effetti Non ci ha aiutato Per un cazzo Cos'è? Pergamena Dell'agilità Dei tuoi alleati Iscriverete Il prossimo attacco Può essere usata Solo una volta Ah per schivare Ok Ottimo Davvero splendido Benissimo Allora Suppongo Che la prossima tappa Sarà Al negozio Di dischi Immagino Esatto Alex Infatti era proprio lì Che stava mandando Oh Che poi Che poi Perché è incazzato L'ho presa davvero Sul serio Direi E infatti E' tutto a posto Purtroppo no amico Purtroppo no Ok Quindi magari ci darà Quella pergamena In cambio Suppongo Va bene Entriamo nel negozio Forza Della Gazza ladra Gussare due volte Ok Ok Adesso vediamo Come si è conciata Steph E' permesso C'è nessuno Wow Chi è questa bella strega Ok Allora Diamo un'occhiatina Qua intorno Che toffa Cioè Si è veramente Impegnata Tantissimo Sono anche Gli incantesimi Ok Infatti Io non sono un mago Mi dispiace Peschiamo una carta Vediamo che ci dicono I tarocchi Che cosa voglio sapere Boh Qualcosa riguardo Le persone Ryan Tipo Quindi Una carta rappresenta Ispirazione Ottimismo La speranza Per il futuro Dovrebbe voler dire qualcosa Ok Un'altra domanda Sempre persone Steph La matta Una carta rappresenta Spontaneità Il coraggio Il desiderio Di vivere Avventure Verissimo La rispecchia Direi Andiamo sulle cose Riguardo Riguardo La typhoon Ecco Oddio Ecco Il diavolo La carta rappresenta La forza Il dominio E la ricerca Degli stessi Beh In effetti Cosa più giusta Non poteva esserci Oh Riguardo il mio potere Ecco Le rivelazioni E la fuga No dai Vabbè Usciamo Ne abbiamo saputo Fin troppo Amore Cipi E qua la cipi Gatta maledetta Ma no Povera smici E' proprio quella Piccola e Rabin Oh E' questa chitarra Non apprezzo Ma si accettano offerte Che figata Che stupenda Porca miseria Ciotola di Valkyria L'ha trovata Che cosa tenera Che cosa tenera E quindi L'ha tenuta qui Alla fin fine Benissimo Allora Parliamo Con questa strega Così Bella Perché Sei incazzata Pure di Oh Shit C'è La sua preoccupazione C'è La sua preoccupazione Attualmente E che io Penso Che Ryan E figo Questa è la sua Preoccupazione Attualmente Wow Ok C'abbiamo tutta Sta grande Importanza Zaffiro Dell'anima Pergamena Dell'agilità Polvere Di troll Pergamena Del vantaggio Ok Ma non sai niente Sulla questione Dell'argento Roba del genere E sta roba Ok Costa Fin troppo Uno scambio Tipo Allora Ragazzi Io direi Ovviamente Per la mia mano In matrimonio Qualcuno di voi Sta insistendo Anche che Chiaramente Io Faccia Partire la ship Fra Alex E Steph Ed è quello Che ho fatto Ragazzi La prima volta Che l'ho giocato Quindi temo Che purtroppo In questa run Purtroppo Tra virgolette Dovrò Farsi che Nasca La ship Fra Alex E Ryan Ragazzi Quindi Niente Direi che Eviterò Di dire La mia mano In matrimonio Perché non vorrei Appunto Illuderla E poi Creare Disagi Scusa Zia Ok Mi serve Una squama Di pesce Ok Vabbè Tu resti Comunque Fin troppo sexy Vestita così Te lo dico Te lo dico Insomma Ah sì 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 Vero 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 Ok Costa Costa Una moneta Vabbè Compriamola Allora Ce l'abbiamo Ottimo Perfetto D'accordo Che dice La pergamena Qua del fabbro Ah Ecco Perfetto Perfetto Sì 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 Eca semi Magica Blablabla Come composta In pratica Quindi magari Ci darà qualcosa In cambio Per cui Dovremmo Pescare un pesce E prendere Una delle sue Squame Per avere Lo zaffiro Insomma Ciao Gnocca Benissimo Allora Bello Esatto Che me dai In cambio Sì ma Ok Perfetto Ok Era quello Che volevo Infatti Grazie Sio È gentilissimo Perchiamo Nel vantaggio Perfetto Allora Qui al ponte dei fiori Non ho la minima idea Di cosa ci sia Vediamo un attimino Comunque Oddio Sta arrivando Un coso Oddio È una delle gemme Che ci servono Eh direi Che è il caso Di combatterlo Certo Eppure qua Di nuovo L'epicità Ragazzi Vabbè L'epicità Allora Via Ethan Forza e coraggio Vai giù Di pugnalata Non vediamo Purtroppo I punti vita Del nemico Però Andiamo giù Di accordo Scordato Ouch Perfetto Direi di continuare Di continuare Ad attaccare Nel frattempo Allora Con la magia Usiamo L'esplosione Di fuoco Però colpirà Alex Però vabbè Dai ce ne facciamo Una ragione Ok Va benissimo Così Via di nuovo Di accordo Scordato Questo sarà più resistente Penso Questo che ha già Che ha già Con sé La gemma Che ci serve Per cui Allora Direi Alex Cura Ok Cura Perfetto E Ethan Vai giù Di pugnalata Di nuovo Ouch Ok Quindi suppongo Che non potrò Esatto Non posso attaccare Per un turno Immagino Ok Altri due punti Forse coraggio Crolla Crolla Bestione Crolla Ouch Minchia Oh C'è sta gonfia Come una zampogna Forza Serenata curativa Chissà che serve Lì Non entusiasmante Ok E forza Ethan Di nuovo Giù di pugnalata Mamma mia È resistente Questo bastardo Proviamo ad usare Questo ragazzi Non entusiasmante Ah ok Raddoppia il danno Del prossimo Attacco Retainer Ottimo Allora Direi di utilizzare Non posso usare Più l'esplosione In fuoco Chiaramente Perché si può usare Solo una volta Per cui va bene Forza giù Di pugnalata Di nuovo Questa volta Giù di 4 E dovremmo Esserci Sì Ok Ce l'abbiamo Abbiamo pure la seconda gemma Cos'è Una nuova abilità Ottimo Attacco Dira Può essere usato Solo una volta 3 punti danno Perfetto Ok ragazzi Allora Abbiamo raccolto Già 2 gemme Su 3 Direi che ci fermiamo qua Non voglio Chiaramente far durare Troppo i video Ragazzi Quindi Secondo me Manca ancora un pochettino Prima che il GRV finisca Quindi Ci salutiamo qui In ogni caso Abbiamo potuto passare Un pochettino di tempo In maniera spensierata Visto che gli argomenti Affrontati di solito Sono sempre Abbastanza Seri Diciamo così Quindi è stata molto carina Questa cosa Comunque che Steph Abbia voluto Comunque organizzare Questo gioco di ruolo Dal vivo Per cercare anche Di tirare su Ethan Anche perché lo facevano Tutti gli anni Mi sembra di aver capito Quindi comunque Non hanno voluto mancare La tradizione Chiaramente Per cui questo video Termina qui Grazie a tutti Un bacione E abdoscio a tutti ragazzi Da Giugherina Ciao